Quattro recuperi e tre abruzzesi in campo nel pomeriggio di Serie D. Vastese, Giulianova e Pineto con tre obiettivi differenti. I biancazzurri di Marco Pomante dopo il pareggio del capo Iprati di Fiugi per 1-1 tentano il colpaccio al di Tella di Vastogirardi con della quercia che rientra dopo la squalifica. Recupero questo della giornata numero 20 e con la possibilità di accorciare sulla zona playoff nella quale adesso ci sono Castelfidardo e Matese. Con i tre punti il Pineto aggancerebbe il Castelnuovo in sesta piazza in attesa del recupero proprio tra le due squadre. Il tecnico biancazzurro riproporrà la difesa a tre con Minincleri alle spalle della coppia Minnozzi-Romano quest'ultimo in gol su rigore domenica scorsa. Se il Pineto sembra ormai aver innestato le marce alte che gli hanno consentito dopo la ribartenza di togliersi dalla zona calda il Giulianova conta di uscirne al più presto. Innanzitutto ritrovando il Fadini e poi cercando il bottino pieno in casa contro l'atletico Porto Sant'Elpidio. Giallorossi domenica a riboso dopo il rinvio della gara del Quinto Ricci contro l'Apriglia che in attesa di ospitare nella fine settimana il campo basso capolista contano di rilanciare ulteriormente le possibilità di salvezza che potrebbero passare ma il condizionale è assolutamente d'obbligo anche per l'eventuale rivisitazione dei criteri per la retrocessione in eccellenza considerati i tempi stretti con cui il torneo di Serie D dovrà chiudersi. Squalificato il tecnico Bitetto che in tribuna troverà anche De Cerchio anche lui è piedato dal giudice sportivo. Trasferta invece per la Vastese che a Mottegiorgio cerca un risultato positivo per tenere a distanza la parte bassa della graduatoria. Il pareggio per 2-2 ha ciuffato domenica scorsa a Castelnuovo famorale Di Filippo torna al centro della difesa davanti potrebbe esserci la coppia formata da Franzese e Mamona vera e propria sorpresa del Gironeffe. L'altro recupero è quello tra Agnonese e Tolentino. Nel frattempo buone notizie per l'intero movimento di quarta serie che potrà tornare a vedere il pubblico sugli spalti. Il decreto legge di ieri che definisce la roadmap per le prossime riaperture è anche stabilito, tra le altre cose, in zona gialla dal primo giugno all'aperto e dal primo luglio anche ha chiuso la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli per i quali c'è il riconoscimento di interesse nazionale esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque il numero di spettatori non può essere superiore a 1000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Grazie! 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 Grazie a tutti.